Sblocca la trattativa per l'ex sede della Banca d'Italia, il cardiologo Maseri dopo averla acquistata, la donerà all'Università del Friuli. Forte richiamo dell'assessore regionale Zanir ai produttori, serve chiarire gli obiettivi per promuovere la ribolla gialla. Risveglio con Davide Locatelli, chiusura con i Coma Cose, presentato il programma che animerà per 19 ore consecutive la città il 7 luglio. Dopo il passaggio del turno per la Danimarca di Strugger esce invece l'Islanda di Alfredson, questa sera in campo alla Svizzera per gli ottavi. Buona giornata, ben ritrovati con l'informazione di Udinews TV. Avete sentito nei titoli le principali notizie di oggi, parleremo di molto altro, alcuni fatti di cronaca e nel corso del nostro approfondimento andremo a raccontarvi quali saranno i dettagli dell'edizione 2018 di Carmi e Armonie. Lo faremo assieme al nostro ospite di oggi, Claudio Mansutti. Buongiorno, direttore di Canarmonie ma anche della fondazione Luigi Bon, andremo a scoprire le varie tappe, i vari appuntamenti di un'iniziativa davvero suggestiva. In apertura però, l'avete sentito, va a buon fine la situazione, il futuro di Palazzo Antonini, il cosiddetto Palazzo Palladio in via Gemona Udine, ex sede della Banca d'Italia. C'erano stati diversi bandi andati deserti, attualmente si è riusciti a raggiungere un accordo. Il cardiologo di fama internazionale Attilio Maseri l'ha infatti acquistato e lo donerà all'Università di Udine. L'Ateneo Friulano ha già in mente diverse iniziative per renderlo un po' il fulcro della formazione della friulanità del mondo accademico. Stamattina la conferenza stampa di presentazione dell'accordo e andiamo a sentire le dichiarazioni dei protagonisti. Professore Maseri, grazie a lei, l'Università di Udine e il Friul intero potranno riappropriarsi di un palazzo che è un vero splendore. Penso che possa complementare tutto quello che è già stato fatto negli ultimi anni per mettere assieme le forze, le energie, le potenzialità che ha la città e a questo punto ci sia la possibilità di espandersi stimolando i giovani a avere il coraggio di affrontare le difficoltà. Questa donazione per noi rappresenta un sogno che si è realizzato, quella di restituire questo palazzo nello suo splendore, alla disponibilità della città. Noi abbiamo un progetto che si chiama Cosmopoli, da Polis la città, Cosmo che rappresenta l'intera Friuli nel mondo. Vogliamo farlo diventare un luogo dove qualsiasi ragazzo o ragazza che viene dall'Australia, dagli Stati Uniti, dal Sud America, di origine filiale, possa ritrovare in questo palazzo il luogo della propria identità. Abbiamo in mente di fare come per Venaria un museo virtuale con allogremi, eccetera, che racconti la storia del Friuli e che possa rappresentare un luogo di apertura al mondo, quindi un luogo di identità, un luogo che ripesca da uno dei massimi architetti del nostro paese, il Palladio, una grande tradizione, un luogo dove poter fare summer school, ospitare studenti di tutto il mondo, per fare appunto un'esperienza di laboratorio sul campo come l'architettura italiana e che il bel Palladio rappresenta. Un luogo per la città, un luogo anche per le categorie economiche, abbiamo un parco meraviglioso, potrebbe diventare il luogo dove si fanno eventi e rappresentazioni, una grande opportunità per tutti. E sì, davvero una grande opportunità del futuro, del riutilizzo del palazzo, se ne discuterà tra l'altro anche in queste giornate, durante le quali è in programma Conoscenza in Festa, l'edizione 2018 con l'Università di Udine protagonista, proprio nel pomeriggio ci sarà il primo incontro tra tutti i rettori delle università italiane. Noi continuiamo con il nostro notiziario, aprendo la pagina di cronaca, con la rapina che è stata messa a segno ieri in tarda serata al negozio Bottegone di Udine, nella zona del villaggio del Sole, con una malvivente che ha fatto eruzione nel punto vendita, ha puntato un coltello in direzione della cassiera, intimandole di consegnare i soldi dell'incasso. La donna, spaventata, ha consegnato al rapinatore circa 2.200 euro. Ha raffato il denaro, l'uomo è fuggito in bici, in sella ad una mountain bike. La donna ha chiamato i carabinieri sul posto, sono intervenuti i militari dell'arma della compagnia di Udine, che hanno dato avvio alle ricerche nella zona sulla scorta della descrizione fornita dalla vittima della rapina. Sono in corso le indagini per identificare il responsabile. Versa invece in gravissime condizioni una donna di 53 anni, di San Lorenzo Isontino, in provincia di Gorizia, che nel pomeriggio di ieri, martedì 26 giugno, intorno alle 17, è stata travolta, mentre stava facendo rientro a casa in sella sua bici. L'incidente è avvenuto a Cormons, lungo la strada regionale 56. Non sono queste le immagini, sono per la prossima notizia. Dicevamo di questo incidente avvenuto appunto in località a Cormons. Le cause sono ancora in corso d'accertamento. La donna è stata travolta da un uomo che era al volante di una Fiat 500, che stava marciando nella stessa direzione della 53N sulla bici. Dopo l'allarme sono intervenuti i soccorsi, le condizioni della donna sono parse da subito gravissime, è stata stabilizzata e poi trasportata in codice rosso all'ospedale di Udine. E a proposito di incidenti, proprio oggi sono stati resi noti i dati di una ricerca della Continental sull'incidentalità dei mezzi pesanti lungo le strade e autostrade della nostra regione. Sono stati 388 nell'ultimo anno, con un calo rispetto al precedente del 3,7%. Gli autobus coinvolti invece in incidenti stradali sono aumentati da 50 del 2016, sono cresciuti del 6,4%. A livello provinciale, nel comparto, gli autocarri Gorizia e Treste presentano dati in calo, mentre sono in crescita dell'11% nelle province di Udine e Pordenone. Un'ultima notizia di cronaca riguarda i carabinieri della compagnia di Tarvisio. È stato deferito in stato di libertà per porta, abusivo d'armi e oggetti atti ad offendere. Un uomo bloccato durante un servizio di controllo ai valichi. A Tarvisio, infatti, si tratta di un 68enne romeno sottoposto a perquisizione. È stato trovato in possesso, lo vedete in queste immagini, di un coltello di fattura artigianale, a manico fisso lungo a 26 cm, di cui 11 di lama. È ancora un manganello in cauciu flessibile con un'impugnatura di 45 cm. Il soggetto è stato deferito per porto abusivo di armi da parte degli uomini della compagna di Tarvisio. Ed ora veniamo ad un momento molto sentito, quello tenutosi stamattina a Udine. La ricorderete, Donatella Briosi, la vittima dell'omicidio da parte dell'ex marito Giuliano Cataruzzi, avvenuto all'interno dello studio del notaio Amodio a Udine. Questa mattina in via Gemona le amiche si sono riunite in una messa solenne per ricordarla, in vista anche del funerale che si terrà invece sabato a Pescara. Una messa organizzata dall'Associazione Le Donne del Vino, di cui Donatella era una vera protagonista. Ci racconta tutto Monica Nardini. L'Associazione Nazionale Le Donne del Vino, riunite in ricordo di Donatella Briosi, i cui funerali si terranno a Pescara sabato 30. Sì, i funerali si terranno a Pescara, ma lei abitando qui a Udine da tantissimi anni, abbiamo pensato che, essendo una colonna portante dell'Associazione, fosse dedicata qui una messa per gli amici che appunto non potranno andare a Pescara e per tutte le donne del vino del Friuli e anche estese al Veneto o alla Lombardia, quelle che verranno, perché sono tutte riconoscenti moltissimo a tutto quello che ha fatto Donatella Briosi, che era una colonna della nostra delegazione friulana, ma soprattutto era amica di tutte, aveva sempre dei contatti su Facebook, una buona parola per tutti, è veramente stata una tragedia. Una messa che non è però solo in ricordo di Donatella, ma vuole lasciare anche un messaggio ben preciso contro la violenza sulle donne. Sì, assolutamente, un messaggio forte, deve essere un messaggio forte, per far sì che finalmente almeno ci sia una lotta o almeno cercare di combattere queste tragedie o anticipare, esatto, che ci hanno veramente lasciato stravolte. Molti ricordi che ha di Donatella Briosi, essendo in confidenza una sua grande amica, dovendone citare uno. Ma lei diceva sempre cin cin, lei diceva sempre baci 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 e sarà una cosa che fra poco presenteremo come Donne del Vino. Ci sono tanti ricordi perché lei è sempre stata una donna generosa, di gran cuore, ed è per questo che se noi abbiamo creato questo evento l'abbiamo fatto proprio per offrirle un riconoscimento. E a proposito di vino, questa mattina si sono ritrovati alla Dimoret a Peletto i protagonisti del mondo della viticultura regionale, assieme all'assessore alle politiche agricole Stefano Zanier, dal quale è arrivato un appello ai produttori. Bisogna raggiungere al più presto una condivisione sulle strategie e sulle tutele riguardanti la ribolla gialla. Serve un urgente momento di confronto, ha detto Zanier, e per questo convocherò entro l'estate un tavolo di lavoro affinché si possa procedere celermente. Sentiamo. Gli ultimi dati sul comparto vitivinicolo dunque cosa dicono? Dicono che è un comparto sano, è un comparto in crescita, che si sta strutturando per cercare nuovi mercati in maniera imprenditoriale e in modo da cercare degli sbocchi duraturi. Ci sono delle conferme importanti che sono gli Stati Uniti, sono in nord Europa e c'è un cominciare a interessarsi verso mercati nuovi come la Cina. In Friuli Venezia Giulia abbiamo una superficie dedicata al vino che raggiunge circa i 22.000 ettari. Una produzione di vino che si attesta su 1.800.000 ettolitri e di questi una buona parte deriva da produzioni di vini di qualità. Infatti il 75% delle produzioni di Friuli Venezia Giulia è vino doc, doc G o IGT. Le prime varietà di uva sono riferite ai vini che sono Pinot Grigio, Prosecco e Sauvignon. La ribolla gialla è entrata ultimamente di gran moda e rimane comunque un prodotto di nicchia. Il fenomeno ribolla è un fenomeno del quale credo ci sia necessità da parte di tutti, ma specialmente da parte degli operatori, di prendere coscienza di una potenzialità che forse oggi viene un po' vista come una possibilità di alternativa, ma non così forte rispetto ad altri vitigni. Io credo invece che su questo ci sia possibilità di fare un ottimo investimento e un'ottima resa. In alcuni casi non ho ancora ben chiaro, perché a fronte di una serie di discussioni che spero terminino in tempi brevi, chiari quali sono gli obiettivi che vogliamo porci di fronte a determinate possibilità e quando ci sono possibilità date dal mercato, ritengo sia impossibile non seguirle e anzi in alcuni casi precederle. Toccherà a Davide Locatelli, giovane musicista di talento, noto per aver trasformato con il suo pianoforte brani pop e rock in chiave elettroclassica contemporanea, dare il buongiorno al concerto del Risveglio, che aprirà la giornata della Notte Bianca in programma Udi nel prossimo 7 luglio. Stamattina sotto la loggia del Lionello sono state presentate le tante iniziative che vedranno anche la nostra emittente Udi News TV, Media Partner. Andiamo a sentire dall'assessore al commercio e al turismo di Udine, Franz, quali saranno appunto le novità di questa edizione. Ritorno alla Notte Bianca a Udine, si partirà dal mattino, si arriverà sino a notte fonda. Assessore Franz, un'occasione per richiamare turisti in città e non solo? Sì, l'obiettivo di questa amministrazione è un rilancio della città e penso che la Notte Bianca sarà un'occasione impertibile per tutti coloro che volano venire a visitare la nostra città e tutte le sue bellezze anche artistiche, architettoniche. Grazie a una collaborazione anche con l'assessorato della cultura ci sarà anche un'apertura straordinaria delle sede museali di Udine, in particolare il Museo Diocesano con le gallerie del Tiepolo. Ci sarà un'iniziativa molto interessante che sarà quella della Bat Night, ossia della Notte dei Pipistelli al Giardino del Torso. Ci saranno tutta una serie di iniziative che partiranno innanzitutto dal concerto del risveglio con un giovane pianista emergente, Davide Locatelli, e che si chiuderanno la serata con un concerto in castello rivolto soprattutto ai giovani con i Comacosi, un gruppo emergente. E poi durante la giornata ci saranno ad esempio Bike Vintage, ossia un percorso stile come 50 anni fa con le vecchie biciclette e con i vecchi costumi per godere delle bellezze artistiche e architettoniche della città, ma nel contempo anche per gustare qualcosa dell'inogastronomia locale. E poi ci saranno iniziative con il Conservatorio di Udine rivolte ai nostri giovani che avranno un palcoscenico negli angoli più suggestivi della città o nei nostri negozi per potersi esibire. Ci saranno anche dei gruppi artistici di ballo, danza e musica che allietteranno questa giornata qua e renderanno ancora più attraente la nostra città. Ci saranno a disposizione anche i parcheggi gratuiti dalle ore 20 alle 24 con possibilità di uscire a qualunque ora della città, quindi penso che questo favorirà chiunque voglia rimanere in città e godersi di una bellissima giornata. E di musica continuiamo a parlare con il nostro ospite. Abbiamo anticipato con noi oggi Claudio Mansutti, direttore di Carni e Armonie, questa rassegna che negli anni si è conquistata sempre più pubblico e che è stata presentata oggi nella sua edizione 2018. Direttore, se non sbaglio ben 35 saranno le proposte di quest'anno? Sì, sono tantissime, sono distribuite su tutto l'arco montano andando da Sappada, dalla nuova Sappada, a Pontebba partendo il 14 di luglio e concludendo esattamente due mesi dopo il 14 settembre. Una delle caratteristiche di questo festival è quello anche di riscoprire chiese, luoghi, palazzi, atmosfere dimenticate da tanti. Sì, ogni anno scopriamo qualche luogo nuovo, devo dire, anche perché i Carni ci indicano qualche chiesa, qualche pieve e quindi veramente citando anche le più famose tipo la pieve di Zulio, però ricordiamo che veramente ci sono posti magici anche facilmente raggiungibili con una gastronomia poi fantastica e quindi anche per i turisti il fatto di avere quasi ogni sera uno spettacolo diverso perché sono tutti diversi e non ci sono replica è un'occasione per rimanere in montagna e godersi la serata. Stiamo vedendo alcune delle immagini delle passate edizioni in questi 35 appuntamenti quali saranno i concerti a cui non poter mancare? I nomi di rilievo? Beh, diciamo tutti per non fare ovviamente difetto a qualcuno ma ci sono dei filoni, il filone giovane perché promuoviamo, ne vedete alcuni l'orchestra giovanile alpina e alcuni gruppi che abbiamo selezionato che debutteranno affiancati però a grandi nomi come Mario Brunello ad esempio che tornerà in carne a concludere il festival il ritorno dell'opera con il Nabucco a Tolmezzo l'opera barocca che faremo a Pontebba quindi ci saranno anche diversi generi musicali, ci sarà il jazz col quintetto di Roma e quindi veramente ce ne sarà un po' per tutti i gusti sottolineo una sola cosa per chi non può uscire la sera faremo dei dopo messa tre appuntamenti in cui proprio dopo messa o la domenica mattina o sabato pomeriggio rifaremo suonare gli organi per mezz'ora quindi le persone anziane che magari hanno difficoltà comunque potranno accedervi dopo messa si fermano e ascolteranno un po' di concerto davvero una bella iniziativa, tutte le informazioni utili le si possono trovare sul vostro sito carnearmonie.it e anche per quanto riguarda l'accesso i posti sono limitati, meglio arrivare per tempo meglio arrivare per tempo ci sono pochi biglietti, ovviamente poche occasioni per i biglietti nel senso per il Nabucco l'abbiamo dovuto fare ma sono sempre di biglietti, al massimo arrivano a 15 euro quindi assolutamente popolari Grazie, grazie a Claudio Mansutti vedete nelle immagini scorrere anche i luoghi di questa rassegna che partirà come detto il 14 luglio per poi andare avanti per tutta l'estate la chiusura, se non ricordo male, ad Alta Terme quest'anno La chiusura ad Alta Terme Perfetto, grazie, grazie al direttore Claudio Mansutti e noi ora apriamo la nostra pagina di sport l'avete sentito nei titoli i bianconeri si stanno facendo valere nei mondiali in corso in Russia su tutti i strugger che ha ottenuto la qualificazione con la Danimarca ma andiamo a sentire le ultimissime la nostra Maurizio Ferrari Buongiorno David, sono giornate in cui l'Udinese ha gli occhi rivolti non solo verso il mercato che continua a impazzare con tutte le notizie che riguardano il fronteportieri ma anche un po' tutti gli altri reparti della formazione bianconera ma gli occhi sono rivolti anche in Russia perché di ieri due notizie una positiva, una purtroppo negativa per i colori friulani quella del passaggio del turno di Struger Larsen che da ieri sera ha anche il nome che si attendeva ma in realtà era una possibilità davvero molto alta quella che dovesse affrontare la Croazia così sarà nell'incrocio che vedrà affrontarsi la prima del girone C con la seconda del gruppo D torna dunque un giocatore nella fase finale al mondiale dopo che l'Udinese è rimasta secco nell'ultima competizione iridata invece non ce l'ha fatta Emile Alfredson per l'Islanda serviva una vittoria e bisognava anche poi andare a fare un po' di calcoli con la differenza reti è arrivata invece una sconfitta proprio contro la formazione che affronterà Jens Struger Larsen passa l'Argentina di Leo Messi dopo le grandi difficoltà è andato anche a segno il numero 10 dell'Argentina cercando di spegnere un po' anche le polemiche poi è arrivato anche il gol qualificazione di Rojo a mettere definitivamente in cassaforte anche la gioia di un Maradona incontenibile sugli spalti quest'oggi invece c'è da monitorare un altro girone quello dove c'è la Svizzera di Valon Berami che dovrà inevitabilmente vincere con la Costa Rica un impegno che non sembra particolarmente complesso però questo mondiale ci ha insegnato di non dover dare nessun risultato per scontato considerando che poi la Svizzera va a dare un'occhiata anche a quello che sarà successo tra Brasile e Serbia una sfida che potrebbe premiare i brasiliani e di fatto congelare anche il passaggio del turno degli Svizzeri con qualsiasi risultato staremo a vedere ovviamente vi aggiorneremo nel corso della nostra programmazione così come vi aggiorneremo anche sui City Camp anche quest'oggi i ragazzi tra 6 e 14 anni hanno continuato il loro percorso di lavoro al centro sportivo di No Brusesi siamo a metà del secondo turno l'ultimo di quest'anno anche perché poi ci dovrà essere inevitabilmente spazio per i giocatori della prima squadra che prossima settimana inizieranno a rientrare qui a Udine per il momento David è tutto palla che torna a voi in studio grazie, grazie al nostro Maurizio Ferrari e con lo sport e le altre informazioni di cronaca ci ritroveremo questa sera nell'edizione delle ore 19 del nostro TG come sempre ci congediamo con la pillola meteo grazie per l'attenzione e buona giornata direi cielo soleggiato questa mattina sulla pianura e sulla costa abbiamo ancora correnti da nord o sulla nostra regione quindi rimaniamo parzialmente proteste dalle Alpi arriva però dell'aria fresca in quota e questo porterà un po' di instabilità col passare delle ore già sulle Alpi Giulia e sul Tervisiano ha cominciato ad onnivolarsi nubi che nelle persone ore interesseranno il resto della montagna e non è escluso che nel pomeriggio ci sia anche qualche locale rovescio temporalesco forse più probabile sulla fascia prealpina ma possibile poi localmente anche su qualche zona di pianura sulla costa soffia un po' di borino piuttosto leggero che verrà sostituito dalla brezza nel corso delle ore centrali della giornata sulla fascia lugonare mentre sul golfo dovrebbe prevalere il vento da nord-est temperature massime attorno direi 28 gradi in pianura le minime questa mattina erano attorno ai 14 in pianura domani il tempo probabilmente sarà un po' più nuvoloso un po' più chiuso la depressione presente sui Balcani porterà aria più umida da est quindi il cielo sarà prevalentemente nuvoloso forse a tratti anche coperto sulla giornata in mattinata specialmente in montagna e non è escluso che ci sia anche qualche debole pioggia sparsa le temperature massime domani caleranno di un paio di gradi mentre le minime probabilmente si rialzeranno anche queste di un paio di gradi attenzione e se